Aveva rubato prodotti alimentari da un'azienda di Bastia Umbra forzando la porta d'ingresso posteriore. Un assisano di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri di Bastia Umbra al seguito del maggiore comandante della compagnia di assisi Marco Vedrulli. L'accusa è quella di furto, possesso di strumenti atti allo scasso e utensili di cui l'arrestato non ha saputo giustificare, né il possesso né la provenienza. All'uomo, già gravato da un precedente penale specifico, è stata applicata la misura degli arresti domiciliari per la durata di sei mesi, richiesta dal sostituto procuratore della Repubblica di Perugia Lidia Brutti.